...del tedesco Armin Schafer su Paradisos, seconda Marie Pellegrin su Grace For Joy per la Francia, terzo il finlandese Sebastian Numinem su Juscha, migliore degli italiani, Vicenzo Mirri, settimo su Ascol, Rocky. E allora con questo abbiamo finito lo spazio a nostra disposizione, grazie ad Alessandro Caruzzi che ha curato la parte tecnica, grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, da Tommaso Meccarozzi, buon proseguimento con i programmi della nostra rete. Miglior italiano Chimiri con il settimo posto I.